Francesco Cuccini è un cantautore italiano, il che vuol dire che scrive e canta tutte le sue canzoni. Questa canzone che vi voglio presentare oggi si chiama La Locomotiva e come vedrete ci sono tante parole che abbiamo già visto insieme nei video precedenti. La canzone di oggi parla di un incidente o per meglio dire di un attentato, di un attacco terroristico successo veramente alla fine dell'Ottocento e che vide come protagonista un giovane ragazzo anarchico. Non so che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse e con quale voce poi cantava, quante anni avesse visto allora di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia ho l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli. Per prima cosa Cuccini ci presenta il suo protagonista, non sa niente di lui, che età avesse, come si chiamasse, quanti anni avesse, però se lo immaginava come un ragazzo, un eroe, giovane e bello. Lo chiama eroe, cioè una persona che compie azioni importanti, buone e coraggiose e così facendo prende posizione nei confronti della storia che sta per raccontare. Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere, i primi anni del secolo macchinista ferroviere. I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti, sembrava il treno anch'esso un mito di progresso lanciato sopra i continenti. Poi continua raccontando le informazioni che invece ha sul protagonista, che guidava i treni in un periodo in cui il treno era simbolo di progresso. Pezzenti significa poveri, viene dalla parola pezza, oppure straccio, che significa che i loro vestiti erano logori, poveri e brutti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite, sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite. La locomotiva del treno viene descritta come un mostro, una creatura che fa rumore, ruggisce e viaggia veloce coprendo grandi distanze in poco tempo. La descrizione la rende una cosa violenta, che si muove con la stessa forza di un'esplosione di dinamite. Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali, parole che dicevano gli uomini sono tutti uguali, e contro ai re e ai tiranni scoppiava nella via la bomba proletaria e illuminava l'aria la fiaccola dell'anarchia. Un'altra forza, o un altro movimento, spiegava, ovvero apriva, a quel tempo, le sue ali. Le ali sono quelle cose che hanno gli uccelli e alcuni insetti, e che servono per volare. Questa nuova forza, ovvero l'anarchia, metteva in testa alle persone più povere parole di uguaglianza e di ribellione contro re e tiranni, contro i potenti. L'anarchia diventa per i proletari, ovvero per la gente che non ha tanti soldi, che non possiede niente, una luce di speranza per un futuro migliore. Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione, un treno di lusso lontana destinazione. Vedeva gente riverita, pensava a quei velluti, agli ori, pensava al magro giorno della sua gente attorno, pensava a un treno pieno di signori. La storia del ragazzo riprende. Nella sua stazione vedeva sempre un treno passare, ed era pieno di persone benestanti, e li confronta con le persone che conosce lui, che ha attorno, che invece sono povere. Non so che cosa accadde, perché prese la decisione. Forse una rabbia antica, generazioni senza nome, che urlarono vendetta, gli accecarono il cuore. Dimenticò pietà, scordò la sua bontà, la bomba sua, la macchina a vapore. Qualcosa scattò dentro il ragazzo, forse la rabbia, la rabbia sociale, contro chi è più fortunato, contro chi prende senza dare. Qualunque cosa gli passò per la testa, decise di vendicarsi, e così decise di trasformare il suo treno in una bomba e organizzare un attentato. Come sempre, ecco il testo italiano con la sua traduzione in inglese. Spero che questo video sia stato interessante. Ci vediamo presto con la seconda parte della canzone. Ciao!